Sono Valerio Pontarolo, sono il fondatore della Pontarolo Engineering S.p.A., un'azienda friulana con anche diramazione in tutto il mondo, siamo presenti in America, in Australia e in Sud America. La nostra specialità è quella di comfort legato a un risparmio dell'impronta ambientale che i prodotti debbano lasciare nell'ambiente. Questo per perseguire una sostenibilità e dare in modo alle generazioni future di poter vivere in un mondo possibilmente migliore del nostro. Noi siamo qui perché le argomentazioni sono le stesse medesime che noi facciamo in azienda, perseguiamo in azienda. Le nostre aspettative sono quelle di poter dare sempre più consapevolezza della necessità di raggiungere questi scopi che sono quelli del benessere ambientale ma soprattutto anche del comfort dell'abitare. perché noi non facciamo prodotti che servono per il risparmio energetico ma noi facciamo prodotti per il comfort ambientale. All'interno del comfort ambientale c'è anche il risparmio energetico e quindi il risparmio ambientale che è una piccola nicchia del comfort.